Finalmente il governo si è deciso a mandare l'uomo giusto Sano però, mi pare che Mussolini mandò lo stesso prefetto che a Bologna fece arrestare i fascisti Hanno feduce allora, nemmeno era arrivato a Palermo e già qualche confedente era disposto a parlare Perché mi chiamano piemontesi? Io non sono del Piemonte Noi chiamiamo piemontesi, tutti nemici Eccellenza, non fate imprudenze Qui la prudenza non serve, tutta la Sicilia deve sapere Perché il prefetto Mori gesti di sfida dalla mafia non ne accetta Antonio Capecelatro, lo so che sei in casa Sono venuto ad arrestarti per intraccio a un pubblico servizio Hai fatto un grosso errore a fermare quel treno Hai firmato il massacro dei Mattile Mori! Questo è il giorno che saldiamo tutti i conti Era meglio che restava a Palermo col culo saluto dalla poltrona a dare ordini Eccellenza! Lei deve impugnare la sentenza di assoluzione appena emessa Perché io li devo arrestare prima che scappino Non posso Non posso avanzare ancora ricorsi e trovarmi di fronte a nuove assoluzioni Sarebbe la fine della mia carriera di magistrato Io mi impegno a farle avere una promozione ed un trasferimento No, non intendo avere privilegi La verità è che lei ha paura! Ma di chi? Ma non lo capite che proprio voi siete le prime vittime della delinquenza? Io sono venuto per combattere quelli che vi sfruttano Quelli che vi affamano, quelli che vi ammazzano! Ma pare che voi siate dalla parte loro Non stiamo con loro, ma manco con voi Ma non mi parli di brigantaggio? Non c'era niente da rubare in quella casa Le hanno massacrati per intimorirmi Piemontese, voi mi potete fare cieco Mi potete frustare Tagliare coglione Io non vi aiuterò mai Queste sono cose che fate voi briganti È vero Le facciamo no-how e ci chiamate briganti Voi altre cose fate La fame, i malattie, i pervi O carcere a vita, non sono peggio Eccellenza, l'acqua no Non potete trattare donne e bambini alla stregua dei briganti Queste cose non le dimenticheranno E allo Stato non conviene farle Ma con chi credete di parlare, Spanò? Questa è un'azione di guerra? Non è una processione di ringraziamento? Sì! Per i maledetti! Lasciatelo! Disgraziati, arrendeteli! Non vi faremo appassi! Vi brucieremo vivi! 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 Vi brucieremo il nostro canale! Vi brucieremo vivi! Vi brucieremo vivi! Vi brucieremo Lewi!